Questo tie-break che assegna l'oro all'Europa 25, errore di Kazakov, errore di Kazakov E siamo 13-9 per l'Italia Due punti, servono due punti alla squadra di Montali, sbaglia la ricezione La Russia a muro di Mastro Palla del match, una palla per la medaglia d'oro per l'Italia Abbiamo demonito le sicurezze della Russia nel quarto set 14-9 per questa nuova Italia, 5-5 palle match Vediamo la prima, l'attacco della Russia con Poltavski annullata 14-10, ancora 4 possibilità Siamo tranquilli A Poltavski non gli rimane, Poltavski deve assolutamente rischiare la battuta Ne ha sbagliate 7 per ora, vediamo 14-10 per l'Italia, costretto a rischiare Poltavski E sbaglia l'oro per l'Italia, la storia, la storia continua Ci sono altri azzurri ma è un altro splendido capitolo Scritto dall'Italia nella Palla Polo Un altro splendido capitolo rilegato sempre in oro Una formichina, diceva Montali, ma una formichina davvero con un cuore grande Così, ancora un successo della nostra nazionale Una splendida partita perché si era messa davvero male Ed ecco Montali che sale sulla tavola dei segnapunti per salutare il pubblico di Roma L'Italia è ancora campione d'Europa Un successo storico possiamo dire, perché questa è veramente la nuova fase del grande ciclo azzurro La storia continua ed è una storia d'oro Ed è importante perché la nostra Palavolo ha cambiato allenatori Ha cambiato giocatori e in questa fase così delicata del cambio generazionale Continua, grazie ai ragazzi, grazie a Montali, grazie alla federazione Grazie a tutti, continua a stare sul tetto dell'Europa, sul tetto del mondo La vittoria più bella per come è stata ottenuta al tie-break 3-2 Contro chi l'abbiamo ottenuta? Contro la grande Russia Dove l'abbiamo ottenuta? A Roma E adesso Umberto Vallone con Gianpaolo Montali Grande Italia Montali Complimenti, la Russia è stata forte ma l'Italia questa sera è stata insuperabile Sì, ho avuto 180 di pulsazioni Ho il cuore in gola, cosa dire? Una cosa straordinaria Una vittoria vinta con gioco in alcuni momenti ma con tanto cuore ancora Vince le due europei consecutivi Vince con una squadra tutta rinnovata Con un gruppo completamente nuovo e quanto di più si può degenerare nella vita La Russia e l'Italia è stata bravissima a non perdere la testa Un momento difficilissimo nel secondo e terzo set Poi è ritornata una grandissima età Siamo gente seria che sa che ha lavorato tanto durante il mese di agosto E non poteva finire una partita così Doveva andare in campo e dimostrare tutto il lavoro che aveva fatto E la qualità delle persone che ha a disposizione Ha vinto la squadra, lo ripeto, non il gruppo, la squadra Perché abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà Ma ognuno ha messo le proprie personali necessità a disposizione della squadra Questa è una cosa straordinaria Un fantastico Cernic che ha avviato questa rimonta nel quarto set Seguito poi subito da tutta la squadra Sì, l'avete visto Cernic Sono felice per lui Felicissimo perché ha avuto una stagione difficile Ed è stato ripagato Il lavoro alla fine paga sempre Bene, grazie a Gianpaolo Montale A te la linea Grazie a Montale Abbiamo visto le lacrime di Mattei Cernic Sesto titolo europeo per l'Italia Che era stata sommersa dalle critiche Dalle polemiche Anche dopo il tonfo Perché in effetti era stato un tonfo estivo La mancata qualificazione per le finali della World League Datemi tempo e vedrete di cosa siamo capaci Aveva sempre detto Montale Ancora una volta ha avuto ragione lui Aspetta per te perché ha vallone Alla sua microfono Cernic Vai Manilberto Allora Mattei Veramente una rimonta di un'Italia Forse qualcuno non ci sperava più Però Cernic ci credeva ancora Penso che secondo me Tutto il palasforzo Tutto il pala automatica Non ci credeva più Comunque noi abbiamo tenuto duro Perché sapevamo che loro erano in un momento fantastico Dovevamo solo tenere duro e aspettare L'abbiamo fatto E alla fine siamo riusciti a vincere Sto europeo Sto benedetto europeo Una doppia soddisfazione per te Sei stato uno dei migliori Hai avuto un momento difficile Sei stato quello che praticamente ha condotto l'Italia verso la rimonta Alla faccia di chi dice che non sono capace di giocare le partite importanti Complimenti Grazie a Mattei Cernic A te la linea Francesca Questo messaggio è stato più una molotov Non lo sappiamo Lanciata da Cernic Probabilmente verso qualcuno del suo ex club Presumo Comunque la cosa importante non è il momento delle polemiche Questo pubblico è il momento della festa È il momento della festa Di una grande serata per la pallavolo Non solo per la pallavolo Per tutto lo sport Per tutto lo sport La pallavolo si conferma ancora Una nazionale vincente Che crea emozioni E che soprattutto ispira grandi valori Oggi e ieri la squadra italiana ha dimostrato di avere grandi valori Di recupero, di gruppo E credo che oggi sia nata anche una nuova storia È una storia che continua ma è anche una nuova storia E adesso andiamo ancora con la pallone Batte il tempo Allora Cisola Allora Cisola una Italia da lode questa volta Perché non si è fatta sopraffuare dalla Russia Ha saputo reagire Ma di sicuro ci siamo presi Una gran rivincita rispetto all'altro giorno Siamo Veramente contenti Meglio di così non poteva andare Abbiamo fatto Una fatica tremenda Forse oggi Non abbiamo espresso il miglior gioco Rispetto alle partite di questo europeo Però siamo stati lì Con il cuore Non abbiamo mai mollato Grazie anche a questo splendido pubblico Ed è andato benissimo Siamo al settimo cielo Non poteva andare meglio di così Continua la marcia verso Pechino 2008 Quello di avvicinamento Adesso facciamo un po' di vacanze A Pechino 2008 ci pensiamo l'anno prossimo Grazie Cisola Complimenti a te la lina Francesca Grazie Festa per tutti Con il sindaco di Roma Walter Beltroni L'abbraccio della capitale Per questa nazionale Che ancora una volta Ci ha regalato una Vittoria Ci ha regalato una medaglia Ci ha regalato delle emozioni Davvero una grande serata Ultima battuta Umberto Con il capitano dell'Italia Valerio Vermiglio Allora il capitano Già col tricolore Per festeggiare Questo campionato europeo Questa medaglia d'oro Davvero sofferta Se vi dico che l'avevo sognata così Anzi l'avevo sognata un pochettino peggio Perché Sognavo che eravamo sotto 2 a 0 È stato Il pensiero fisso di questi giorni Questo ultimo giorno Siamo stati bravi Eravamo in confusione più totale Allora Veniva tutto A partire da me Volevo Forse volevo Tirare su i miei compagni E ci siamo complicati Uno dietro l'altro Tutti Dal primo all'ultimo La parte centrale della partita Però poi è cambiato qualcosa Abbiamo creduto Abbiamo creduto che il culo Scusate la parola Non poteva resistere così tanto E ci abbiamo provato A darci l'anima E siamo finiti qui La cosfera è eccezionale La medaglia per questo pubblico È il minimo E questa Per me è la prima esperienza capitano Per molti ragazzi è la prima esperienza Da responsabili Ringrazio tutti Per me è anche un momento particolare Grazie al capitano Vermiglio Di nuovo tanti auguri A te la linea Francesca Abbiamo passato quella parola Non oltre Dunque Loro Per l'Italia Della palla a volo Abbiamo visto anche In rappresentanza del governo Gianni Letta Complimentarsi con Giampaolo Montali Dunque Sul tetto d'Europa Sul gradino più alto Del podio Europeo C'è ancora L'Italia L'Italia di Giampaolo Montali Sesto titolo Nella storia Del volley italiano L'appuntamento È alla domenica Sportiva